Sono negli studi televisivi di Sette Gold e questa sera inizia la mia nuova avventura televisiva. Il primo programma realizzato interamente in selfie. Chi di voi già mi conosce sa che uso questo nuovo modo di raccontare oramai da anni e adesso va anche in tv. Quindi racconterò le serate bolognese e gli eventi più coinvolgenti con il mio iPhone a partire da stasera, dalle serate Swagami, quindi vi aspetto sia al Bononia che al Barahonda per quattro serate che verranno poi trasmesse in tv su Sette Gold, Nuova Rete e Rete 8 a partire dal 5 luglio. E non so che cazzo accadrà, ma sicuramente cose molto divertenti.